Qui Massimiliano Esposito dal Campo Roma di Giuliano, ore 19.30, i vici del fuoco ancora al lavoro. Sono qui, come dire, a filmare le attività di spegnimento, i vici del fuoco non sono ancora terminate, l'area da espirabile e come si vede è tutto ancora in alto mare. Vi illustro la situazione. Cerco di andare un po' più vicino, davvero un apocalisse, davvero un inferno. Qui Massimiliano Esposito, vi aggiorno a più tardi. Grazie. Grazie.